Sai cosa sono le patologie croniche? Sono malattie come diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o l'asma che hanno bisogno di un monitoraggio continuo e costante nel tempo. Sai che c'è un servizio gratuito che ti permette di rilevare i parametri clinici direttamente da casa con tecnologie digitali e di avere la consulenza a distanza di medici specializzati. Si tratta di Monitor Salute. L'innovativo servizio di Unisalute, realizzato in collaborazione con SiSalute per il monitoraggio da remoto di alcune patologie croniche attraverso tecnologie digitali direttamente al tuo domicilio. Usufruire di questo servizio è semplicissimo. Accedi alla sezione dedicata e invia il certificato medico oppure compila il questionario. In base alla tua situazione clinica ti invieremo a casa il kit con i dispositivi medici specifici per misurare i tuoi parametri. Gli operatori del nostro call center sono sempre a tua disposizione per l'installazione e l'utilizzo dei device. Ogni volta a chi rilevi i parametri, i dati vengono trasmessi in tempo reale alla nostra centrale operativa e analizzati dai nostri medici e operatori specializzati che li monitorano e intervengono contattandoti quando necessario. I nostri medici inoltre impostano un protocollo di coaching personalizzato per tenere sotto controllo i tuoi valori nel tempo. Il medico curante rimane comunque il tuo punto di riferimento. Con Monitor Salute la rilevazione periodica dei parametri clinici è più semplice, veloce e immediata e puoi contare su un team di medici sempre a tua disposizione. Grazie Grazie Grazie